Sei persone sono morte negli ultimi mesi per incidenti stradali in provincia dell'Aquila. La più giovane aveva 23 anni, il più anziano 95. Gravi episodi, causati in generale dall'alta velocità, dall'uso di alcol o stupefacenti, ma soprattutto prima causa di incidenti stradali è l'uso del cellulare mentre si è alla guida. Per chattare su WhatsApp e su Facebook si perde per lunghi secondi il controllo della macchina, si esce fuori strada, si investono pedoni ciclisti. Per questo è partita, come di consueto, nei giorni clou delle festività estive, a cavallo di Ferragosto e fino al 18 agosto, la campagna della Polizia di Stato per contrastare le infrazioni al codice della strada, con l'istituzione di alcuni servizi di controllo sul territorio, come il telelaser. Soltanto oggi alla vigilia di Ferragosto sono 14 le pattuglie che la Polizia Stradale ha sparso sul territorio provinciale, di cui la metà ha dedicate proprio agli accertamenti delle infrazioni al codice della strada, tra queste strade c'è la Statale 80, la più incidentata. Una misura di controllo che rientra nella più ampia campagna europea Speed del Network Europeo delle Polizie Stradali TISPOL, ideata appunto per monitorare alcune aree specifiche strategiche e aumentare la sicurezza sulle strade, come spiega il dirigente della sala operativa del compartimento della Polizia Stradale per l'Abruzzo e il Molise, Felice Donati. È un accertamento effettuato mediante un'apparecchiatura di nuova generazione, denominato telelaser, che consente di accertare la velocità in sicurezza anche in zone in cui è difficile provvedere a questo tipo di accertamento, ad esempio curve o altre tipologie di sede stradale. Questo è il territorio di Canzatessa, non è stato scelto a caso? In realtà questa campagna ogni anno cade in questo periodo e viene rimesso poi agli organi di polizia individuare le aree su cui operare gli accertamenti sulla velocità. È chiaro che noi cerchiamo di perseguire quei comportamenti che creano un effettivo pericolo per l'utenza. Siccome abbiamo riscontrato su questa strada, ahimè anche negli ultimi giorni, un aumento dell'incidentalità, stiamo cercando ad operare non solo come repressione ma anche come deterrenza. Oramai l'uso del telefono alla guida assorge agli onori e ai disonori della cronaca per le conseguenze che ha sulla circolazione. Si tratta di un'infrazione particolarmente pericolosa perché in alcune circostanze va a coinvolgere utenti che si trovano a transitare per puro caso. Quali altre sono le zone attenzionate in questa settimana così importante? Naturalmente la provincia dell'Aquila è vasta e in questo momento analoghi servizi sono in atto. Nella Marsica abbiamo in uscita da Vezzano, sulle strade rettilinee che portano al di fuori del centro abitato e in zona di Prato-La Peligna sul Mona. Sono previsti però durante la settimana e già sono stati effettuati dei servizi che riguardano un altro fenomeno che ci è stato segnalato e che abbiamo potuto verificare, vale a dire quello dei motociclisti che disturbano e creano pericolo per la circolazione. In questo caso le aree attenzionate sono quella di Campotosto, l'area di Pescasseloli in provenienza da Pescina, da Gioia dei Marsi e l'area della SS80, quindi Fonte Cerreto. Intanto cresce purtroppo del 7% il numero degli incidenti sulle autostrade a 24 e a 25 nei primi sette mesi dell'anno. Grazie. Grazie. Grazie.